voglio mostrarti la sera finite una bellissima pietra in questo caso grezza che va proprio a lavorare con la connessione angelica infatti sera fini sono ancora angelico e la sera finite è una pietra che ha questo suo colore verde argentino che la collega con la fiamma verde la possiamo andare utilizzare proprio per aprire il nostro cuore all'amore incondizionato grazie all'intercessione del lavoro con gli angeli quindi della connessione angelica e dal punto di vista animico ci permette proprio di andare a lavorare su quei blocchi che sono legati a dei traumi che abbiamo sepolto e che grazie al lavoro con la serie sera finite possono emergere quindi la possiamo utilizzare ovviamente per andare a energizzare l'acqua ma possiamo anche utilizzarla all'interno per esempio di genesa pentasfera per amplificare la sua energia nel luogo in cui si trova si può usare ovviamente in meditazione e tenendola con noi molto spesso possiamo anche andare a pulire i nostri canali energetici si dice appunto che riesca a pulire anche la nostra aura e riuscire a connetterci con maggiore facilità a quello che il nostro se superiore quindi alla comunicazione tra il nostro diciamo corpo fisico anche se superiore attraverso le percezioni che ci possono arrivare attraverso i segni messaggi angelici per esempio numeri doppi piume cuori eccetera a me piace utilizzarla tenendola molto spesso con me sulla mia scrivania e mi piace anche molto utilizzarla in collaborazione con l'acqua dell'angelo che è questa qui che in questo momento ho messo all'interno della mia pentasfera per andare a aumentare quella che è il suo lavoro questa è di olfattiva e io la amo moltissimo perché ha un'essenza molto fresca e aggrumata che alza moltissimo le vibrazioni quindi utilizzate in concomitanza anche da sola però con la sera finita deve fare un bellissimo lavoro in sinergia ecco qua la sera finita fammi sapere se ti piace